Ciao ragazzi, per quelli di Facebook stiamo andando in diretta ora Radio Playtime, benvenuti cari Radio ascoltatori, quest'oggi con immenso piacere vi presento, un DJ pazzesco, si chiama DJ Takmas, scrivete in chat della radio, scaricate, one app di radio, Playtime sia per, e poi che, android, oppure, visitate, il sito, di Takmas, www.djtakmas.gingo.com Altrimenti, www, Radio Playtime Club, vai DJ, spacca tutto, con la Hardcore Welcome to Death in the Circus of Hell Welcome to Death in the Circus Welcome to Death in the Circus of Hell Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti ragazzi, questo è Radio Playtime, io sono DJ Takmas, ogni sabato sono sempre qua a sentire, ascoltare hardcore, pezzi nuovi, ma oggi facciamo qualcosa di più grosso, facciamo qualcosa di molto più grosso, facciamo old school, adesso partiamo con questa che spacca, more butts, more butts, conoscete more butts? scrivetelo in chat, per quelli che non lo conoscono, bacchettate sulle mani. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti 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 con Grazie a tutti 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 Oggi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti